tavolette di combustibile solido esbit utilizzabili per far accendere fornellini accendere fuochi e qualunque utilizzo voi vogliate fare per avere un acceleratore del fuoco sono 20 tavolette da 4 grammi luna contenute in questa scatolina le tavolette a sua volta hanno una parte piegata in mezzo segnata la quale è fatta apposta per essere spezzata in questa maniera e utilizzarle in maniera singola se fosse necessario basta una avvicinarle leggermente alla fiamma e vediamo che la tavoletta prende subito prende subito fuoco mano a mano brucerà sviluppando un notevole calore e antivento e all'occorrenza se necessitiamo di una limitata di una limitata energia di fuoco possiamo spegnerla e riutilizzarla in un secondo momento facendola un po asciugare e in questo caso mettendola via la possiamo sempre riandare ad accendere poiché una volta asciutta anche se leggermente umida prenderà lo stesso fuoco sarà meno immediata l'accensione però come possiamo notare riprendo a bruciare senza problemi per spegnerla ovviamente rimetterete sopra dell'acqua mano a mano che il fuoco prende e riasciuga l'altra parte aumenterà anche la grandezza della fiamma comoda pratica funzionale leggera